Oggi per la prima volta nella storia della Repubblica i giudici stanno bloccando l'attività di un partito politico. Lo ha affermato Matteo Salvini a seguito di un provvedimento dei giudici genovesi, che ieri hanno disposto il sequestro dei conti correnti di diverse sedi della Lega Nord, tra cui quelle di Imperia, Sanremo, Bologna, Bergamo e Trento. Il sequestro dei conti correnti della Lega Nord è scattato su ordine del Tribunale di Genova, che ha accolto la richiesta del PM Paola Calleri di confiscare i soldi del partito. La richiesta era partita dopo che il Tribunale aveva disposto la confisca diretta di circa 48 milioni al carroccio, a seguito della sentenza di condanna di Umberto Bossi, Francesco Belsito e altri imputati per la maxitruffa sui rimborsi elettorali tra il 2008 e il 2010. Secondo l'accusa, i vertici del partito avrebbero ottenuto i rimborsi elettorali con documentazioni artefatte, fondi che poi sarebbero stati utilizzati in gran parte per spese non istituzionali. Il procuratore capo di Genova, Francesco Cozzi, spiega quello emesso dal Tribunale è un sequestro preventivo provvisorio. Se la sentenza di condanna di primo grado dovesse essere ribaltata in appello o in Cassazione, i soldi verranno restituiti.